Rossi, corre, corre su Dovizioso, gli manca pochissimo, intanto Dovizioso cerca di superare Pedrosa, un ambaradam del campo. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato la cosa e chiudo. Stop, azione. Rossi sta per superare Dovizioso, che sta per superare Pedrosa, tutti lì vicino, di un pelo, 3 mm neanche, pochissimo di distanza, pochissimo. Intanto, Iannone sta per superare Marquez e Rossi superano Dovizioso, e in un colpo anche Pedrosa, tutti su. Marti, non avevo finito, comunque il regista è lui. Se volete finire di vedere la telecronaca, guardate il film che c'è qui sotto e che ci sarà la fine della telecronaca. Grazie, tanto. Grazie. 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 Grazie.